Ultimo giorno oggi per 97 dipendenti dell'Agenzia della Protezione Civile nella sede di via Sant'Antonio Abate nel capoluogo di Regione. Da domani tutti a casa se non ci saranno provvedimenti dell'ultima ora da parte dei vertici politici a Palazzo Vitale. Forti critiche agli amministratori regionali sono piovute negli ultimi mesi sul perché dei precari da mandare a casa, tecnici e amministrativi vincitori di concorso subentrati nell'Agenzia per concludere la decennale ricostruzione post terremoto nei paesi del cratere molisano e in altre realtà della Regione. Il primo aprile dello scorso anno furono mandati a casa 84 lavoratori dopo meno di un anno e mezzo di servizio. Da domani se ne aggiungeranno altri 97 professionisti rimasti senza più contratto. Sulla avvertenza dei precari della protezione civile l'appello del consigliere di maggioranza Francesco Totaro che chiede l'intervento urgente del prefetto di Menna per scongiurare un altro pesante tonfo nell'abile sistema occupazionale del Molise con gravi conseguenze che ricadranno in termini di lavoro e conclusione della ricostruzione abitativa post-sisma su un territorio fragile e martoriato come quello dei piccoli centri interni. Fortemente negativo anche il commento espresso dal circolo del Partito Democratico di Ripa Bottoni, uno dei 14 paesi del cratere, circolo che indica in fratture ciocca gli autori materiali dello smantellamento dell'Agenzia regionale.